Con la presentazione del volume dedicato ad Angiola Massucco, parlamentare negli anni 60 e consigliere comunale di Torino, dal 1970 al 1975, si è chiuso a Palazzo Lascaris il ciclo di incontri dedicato alle donne protagoniste nella politica piemontese, recentemente scomparse. Gli altri volumi della collana Donna e donne, ideata dalla consulta femminile con l'Istituto di Studi Storici Salbemini, sono dedicati a Maria Magnaninoia, Giovanna Cattaneo e Nicoletta Casiraghi.